Ciao Cagnaccio, saluti dal Marocco, vai con i commenti, vai, vai, vai Ciao Edo, come va? Tutto bene? Io ti chiamo per aggiornarti sui nostri commenti Vado subito diretto, c'è Omar che dice sul parabrezza Io voglio il parabrezza subito, quando Guido sto sempre con la mano sulla tasca a sentire se il telefono vibra E se poi aspetto un messaggio lo controllo ogni semaforo, parabrezza subito Allora Omar, stiamo lavorando per te, vedrai che roba C'è Rossella che pensa in grande, a me piacciono tutte e tre le idee Mi chiedevo perché non integrarle per fare un unico grande sistema che garantisce la sicurezza Con il casco dai comandi sullo schermo li vedi e con il guanto li attivi, che ne dite? Cara Rossella, idee tutte e tre ottime, dobbiamo però concentrarci sulla più efficace Perché tra i dispositivi insieme farli quadrare non è neanche poi così semplice Però vedrai il risultato Cagnaccio, senti, io devo andare, continuiamo a lavorare forte e passo e chiudo Ciao Dai, ci si vede presto, torna in Italia, ti aspettiamo Ciao Ciao Ciao